Fin dai tempi più antichi, i frutti del castagno hanno costituito una risorsa senza pari e una fonte alimentare straordinaria. Alcune fonti attestano che ad intensificare la coltivazione e la commercializzazione delle castagne furono gli antichi romani. Ne sono una forte testimonianza alcuni versi ripresi dalle bucoliche dello scrittore Virgilio, tessuto intorno al I secolo a.C. Nel medioevo e nell'età moderna, le piante di castagno furono d'ausilio in anni di crisi e di carestie, poiché il loro frutto, oltre ad essere buono, era indiscutibilmente una fonte alimentare sicura, ricca di sostanze nutritive ed energetiche. Il segreto di tale prodotto è sempre stato nella sua robustezza e nella sua capacità di conservazione al naturale. Oggi, il processo di preservazione del frutto è coadjuvato dal sapiente uso di macchine tecnologicamente avanzate, in grado di mantenere il prodotto fino a primavera, senza l'uso di sostanze chimiche, capaci ad alterare la qualità del prodotto. La zona della Tuscia di Viterbo, ricca di preziosi tesori archeologici ereditati dal contatto diretto con gli etruschi e romani, ha anche la fortuna di essere la culla di un patrimonio boschivo inestimabile, fucina di un altrettanto frutto prelibato, il marrone. Il marrone, al contrario di quanto solitamente si pensi, è diverso dalla castagna, più chiaro nel colore, più grande nelle dimensioni, più dolce nel sapore. Grazie alla loro naturalità e alla loro squisitezza, le castagne e i marroni hanno conquistato le nostre cucine, diventando così i protagonisti di molte ricette. Caldarroste, castagne bollite, marron glacé, mont blanc, zuppa di castagna. La ditta Petty opera da tre decenni sul mercato italiano ed internazionale ed è specializzata nella lavorazione e nella commercializzazione di castagni e marroni. La ditta Petty intende fornire ai clienti la massima qualità dei prodotti, qualità accompagnata da serietà e competenza, ingredienti fondamentali per riuscire a perseverare nella lavorazione di danni prodotti dopo tanti anni. Lo stabilimento della ditta Petty è ubicato in Canefina, un paese alle pendicide mutici, a circa 13 chilometri di Taviterbo. Inoltre, la ditta Petty confeziona castagne e marroni anche in pacchetti da mezzo chilogrammo. Un chilogrammo? Tre chilogrammi. La ditta Petty esporta prodotti certificati. La ditta Petty esporta prodotti certificati.